Salve a tutti, Wachikebari e benvenuti nell'ultimo episodio di Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin In questa puntata andrò a sbloccare la scoper ending Ho capito che non devo rifarmi tutto quanto il gioco da capo, bensì posso tranquillamente selezionare i capitoli che servono per sbloccare questo finale Ci vado e vi mostro un po' che succede con le telecamere Voglio avvisarvi che in realtà in una vecchia registrazione ho provato a disattivare tutti quanti i robottini del bagnato Ma una certa ne ho dimenticato uno, mi sa che era tipo nel capitolo 3 E ve lo dico, una grandissima rottura di palle cercarli Ma in realtà guardate, alla fin fine quello che troverò dietro al muro sarà Glamrock Bonnie nel Bonnie Bullying Già abbiamo mostrato l'immagine Per me quello che mi importa è, che dire, mostrarvi la scoper ending finale e poi basta Perciò ragazzi, sono pronto, vanno nel capitolo 1 e si continua Voila! Questa è la prima telecamera Dunque Ok Ciao Monti, non mi interessa, devo Voila! Eccola qua La porta è aperta infatti Sono nella parte superiore del Montigolf, in questa zona orrenda E questa è la seconda telecamera che bisogna utilizzare Appunto, guarda un po' che cosa ho trovato La porta qui è aperta E vai Postazione delle telecamere di sicurezza Ecco qui ragazzi La prossima Eccola qua, la seleziono La porta è aperta Ok Mi sto spostando Si ripartono qualche tutorial a caso Ok E adesso Qua ho fatto Ora una cosa molto importante che dovete fare E' aspettare di vedere Diciamo un caricamento Un caricamento di dati di salvataggio, chiaro? Come questo qua Al lato In questo modo Avete salvato La porta Che è qua Guardate E ora dovrei riuscire ad arrivare All'ending Non ne ho idea ragazzi Se riesco a sbloccarla eh Ve lo dico subito Oh Oh aspe Ragazzi ma Scusate è diverso Ragazzi è diverso Non era così Ragazzi è diverso No Cos'è? Non aveva quei denti sulla faccia eh Oh mio dio Ma che è? Ma è un papero gigante Si ragazzi Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo ragazzi Eccola qui Ok adesso mi sa proprio che devo andare nella porta Quella lì segreta Il nemico è cambiato Non è più quel Mimic Oh mio dio Cavolo E' enorme Ragazzi è bruttissimo Non voglio girarmi indietro Fa molto più paura del Mimic Come voi l'avete chiamato E so che appare negli ultimi Libri di FNAF Veloce Cazzo mi son perso Veloce Ok la porta è aperta La porta è aperta Eccomi Dai 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 Cazzo 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 Veloce Wow Che cos'è questo luogo? Premo E per usare Ehm What? E adesso? Mamma mia Oh 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 Cosa? Che succede? Quel braccio meccanico L'avete visto? L'ha preso Ehm Ma che diavolo Ma che diavolo Eh L'ha ucciso? E sono tornato al menu principale Quella che avete appena visto Era la scuper ending Ne parlo un po' Dopo che ho Aperto le porte Nei capitoli 1 3 5 E il settimo Se Poi nel capitolo 9 Cambia il nemico Non è più L'animatronic Chiamato Il mimic Bensì invece È un altro Che indossa Un vestito da mascotte Ma che Più che Sembrare un costume D'animatronic Della Freddy Fazbear Pizz Sembra addirittura Di un'altra compagnia O meglio Sembra Proprio Quelli che vediamo Nei parchi divertimenti Abbandonati Che si è premuto Il bottone E l'animatronic È stato Ucciso Dal braccio meccanico Che credo sia Lo scuper E poi Basta L'unica cosa Che non sono uscito A mostrare Realmente Nei miei gameplay È Glamrock Bonnie Dietro al muro Del Bonnie Bullying Solo che Per vederlo È forse La cosa Più difficile Bisogna trovare Tutti quanti I robottini Del bagnato Io ce la stavo Per fare Ma una certa Ne ho dimenticato uno Veramente Mi sono rotto le palle E ho lasciato perdere Vi ho fatto vedere Comunque l'immagine C'è chi è riuscito A vedere Glamrock Bonnie Senza fare questa roba Lunga e noiosa Usando qualche trucchetto Glamrock Bonnie È presente nel gioco È una cosa Che per di più Bisognerebbe fare Off camera E basta Se per voi Ho lasciato stare Delle stanze Non ho fatto Tutto quanto Perfettamente Al 100% Vi chiedo scusa Ma il mio obiettivo Era quello Di giocarlo E di vedere Gli ultimi finali A Security Breach Ruin Do un 8 su 10 Mi è piaciuto Di più Del gioco originale Perché Ho trovato Pochissimi bug Il lag Era minimo Faceva più paura I jumpscare Sono stati migliorati Tantissimo Cassie Rispetto a Gregory È una Protagonista Superiore Veramente Complimenti Bravi Però L'unico difetto Che un pochetto Non mi è piaciuto È che a volte Il gioco Può risultare Ripetitivo Nel trovare Gli oggetti Gliciati di rossa Seguire I cavi Mettere la maschera Dopo un po' Stanca Ditemi voi la vostra Su questo gioco Io concludo qui Questa serie Sì non ho preso Tutti quanti gli oggetti Ma non si sblocca nulla Se prendi tutti i fumetti O tutti quanti Collezionabili Per fortuna Perché secondo me In Security Breach C'erano troppe Troppe Ending Già Io concludo qui La mia serie E ci vediamo Ad un prossimo video Ciao Ciao